Ciao ragazzi, questo è il sesto video in collaborazione con Artisa. Abbiamo deciso di dare un nome a questi video chiamandolo Let's Try Do It For The First Time, cioè proviamo a farlo per la prima volta, perché comunque pensiamo che nessuno abbia ancora fatto questa tipologia di video su YouTube e magari dandogli un nome, non so, se a qualcuno può interessare, ok, poi rifare questi video e magari citarci, ok. Do it for the first time, perché comunque le cose che facciamo noi non le abbiamo mai fatte prima del video, diciamo, quindi lo facciamo live, in diretta. Per questo sesto video in collaborazione abbiamo preso questa immagine, che non riesco assolutamente a farvi vedere, questa immagine che era da Instagram mi pare, da Pineapple Issues, dove c'è un sei con varie immagini, e noi abbiamo deciso di fare questo gelatino, questo qua, o questo. Ok, quindi adesso vi lascio il video, e niente, spero vi piaccia, lasciateci un like e condividete i nostri video se vi piacciono, e basta, iscrivetevi, ciao ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!